è pronto? aspetta si vabbè fammi aspetta aspetta ok vai vai lo rifaccio vai 3 2 1 3 2 1 ok 8000 di volte e ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci siamo qui solo a diversi di due non sono da solo sono in compagnia del mio fido compagno del mio fido ciao fido si però devi parlare si se non è dov'è? che bello che bello sta guardando la mappa signor cifra che bello ah perchè mi hai chiamato? ah ciao a tutti ragazzi eeeh ma salve si no 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 allora signor cifra mi dichi mi dichi guardiamo guardiamo allora io direi aspetta se mi mena allora siccome tutti avevano un nome io direi di fare quella senza nome quindi facciamo dettai dai abbiamo detto in privato che facevamo quella di yuke però andiamo da quell'altra parte tranquillo tranquillo vabbè andiamo di qua tranquillo vero dovevamo fare tranquillo lui sceglie all'ultimo momento lui fa come cazzo gli pare me lo son dimenticato lui fa come cazzo gli pare tranquillo vabbè l'ho dimenticato ma certo allora tre minuti per scegliere il calendario va bene tranquillo eh ma lo son dimenticato e perchè è uscito fatta fatta vabbè come fatta non l'abbiamo fatta di sbagliare sorgio che cazzo allora quello facciamo quella di lì un collo l'altra che può che può l'abbiamo fatta no quella ma quando mai questa è quella blu che stai dicendo è là cazzo di ah e che io mi stavi facendo per un rettivo ho detto ma che cazzo di e se entrate quella di Emma Power vabbè allora me lo dici facciamo ok ok è uscito ok è uscito quella viola quella viola allora quella viola oh sti cazzo ora si vai ok possiamo iniziare vai ok ok chip aspetta un attimo aspetta un attimo no io ancora no io ancora no ok ora pure io oddio sono caduto vabbè aspetta 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 si si sono giù a vangula come va a vangula io l'aspetto va a vangula città cacata va a vangula va a vangula guarda dai allora signor chip le do un consiglio la sona no da me ci sta la musica mi ha fatto allora dai signor chip dai eh non mi può fare tutti questi errori dai signor chip io credo in lei genio chip sto credendo in lei si o chip mi fa male va a vangula aspetta ah minchia sei morto là aspetta allora eh va a vangula una traccia sei morto là allora ti ho chip allora vediamo se le posso dare una mano ehm io sono andato guardi il bottone di fronte a lei devi andare verso basso a fare sinistra si adesso arrivo aspettami arrivo arrivo eh arrivo ma quando sei atterrato non ti ho visto eh misteri misteriosi pevo misteri misteriosi ti giuro non ti ho visto cadere eh misteri misteriosi pevo pevo andiamo a misteri misterio quando è arrivato il signor chip lo scopriremo nel prossimo episodio vai vai andiamo una volta che è finito sei stato molto dov'è l'abbiamo finito ora si l'abbiamo finito ho visto l'abbiamo finito ti ho detto che non era finito è stato facile adesso quello di Luke dai quello di Luke dai quello di Luke vai quello di Luke vai ahia ma che cazzo vai quello di Luke ah fa un gulo allora eh madonna ma tu eh vabbè si però eh no 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 tu sei arrivato in cima vero cioè alla fine vero zi magari sei morto sei morto tantissimo dov'è l'acqua non vedo l'acqua non c'è l'acqua infatti ah ci sono gli slime devi atterrare sugli slime eh si almeno pare siano slime ora non glielo so dire sinceramente la madre vaffanculo ti immagini madonna madonna i mortacci madonna aiuto aiuto è morto morto brutale proprio no ma dici vaffanculo sono morto non c'è quale blocco ma sono morto da me i blocchi spawnano dopo lascia perdere chip lascia perdere chip sono risaltato bang bang eh eh c'è bang chi non salta chi non salta frocio letto eh e che dobbiamo fare adesso non lo so qua c'è il pulsante pepo dove qua sotto oh lo pigi lo pigi l'ho pigiato tutto pepo abbiamo finito questi fottutissimi mamma mia c'è da beh si nello scorso episodio ho due ore per finirne due adesso 30 secondi eh ma siamo dei geni ma l'hai fatto ma l'hai fatto eh allora facciamo il livello qua di gigi cioè quello di gigi dai mica quello di gigi cioè dai perché ovviamente entri quello di gigi ed è il deserto oh si può oh mi è spesso oh aspetta ci dobbiamo buttare tantissimo vado gigi orto mi sa che non dobbiamo buttarci così mi sa non lo so dobbiamo buttarci piano non lo so non l'ho capita signor pepo ma mi sa che forse dobbiamo buttarci piano cioè nel senso è a discesa rilenta mi sa cioè non puoi ne sei sicuro eh non lo so penso di si che ne so c'è per la prima volta che faccio la diversità lei pensa no siccome io accadono e vedo vabbè si lei si butta ci aspetti arrivo venghi venghi sono qua sono qui sono cip sono qui sono dietro di lei sono dietro di lei arrivo aspetta 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 c'è dell'acqua giù non la vedo c'è l'acqua ho tu pipiglieri che scherzo è una merda c'è l'acqua ho fatto la pipiglieri vado ok venghi guarda come muoio eh madonna sono alti sti salti signor chip aspetta eh allora vabbè buttiamoci qua piano 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 eh piano piano eh fatti vieni qua un attimo signor chip si vabbè se mi stai chiamando in tutti i modi signor chip aspetta mi butto di là non l'ho preso di culo signor chip l'ho preso di culo ma sei non sicuro che dobbiamo fare così non lo so chip siccome acqua non ne vedo facciamo una cosa scendiamo giù se troviamo l'acqua perché io non l'ho visto lo rifacciamo che vuole no sti cazzi no ci voglia no perché cioè penso vada fatto così eh boh io è sotto ho visto che c'erano delle canne delle zucche le zucche ti ricordi quelle fighe ma non l'ha fatta bigre questa mappa come fai cazzo eh c'era le zucche da sotto ah ci sono le zucche ma sei già arrivato da sotto tu no prima quando sono sceso ho trovato le zucche c'erano le zucche e se le mangiate e che ne saccio io io sono pieta ma è vero ci sono le zucche signor chip ma che le zucche no c'è ci sono i pupazzi di neve a lei piace il pupazzo di neve ci sono i pupazzi di neve signor chip madonna stavo cadendo ok si scende di qua signor chip penso eh io mi sa che sono nella fottutissima merda perché scenda come fai stare nella merda signor chip e non sia nella merda eh no invece sono nella merda fino al colon non è vero un cazzo è nella merda fino al colon e questo mi dispiace signor chip ma siamo sicuri che devo fare così sì chip non ce n'è acqua qua sotto sì per forza così va fatto chip non ce n'è acqua sotto vabbè chip guarda eh chip vieni qua eh mo fino a un certo punto dov'è l'acqua allora se lei adesso mi trova l'acqua le do ragione dov'è l'acqua non ce n'è acqua eccola ma dove eccola dove no non posso spaccare i blocchi di ghiaccio no chip non ce n'è acqua ma andava a foto così hai visto ci sono il chip siamo arrivati sì 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 pepo pepo mi dichi aspetta 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 cosa mi faccio la foto col popazzotto di neve l'effetto pop 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 me aveva fatto la foto la foto si fa la foto pure io eh dai mamma mia devi sempre guarda io poi sto bene perché il nero risalta sul bianco e togiti e togiti mezzo ma basta mi faccia la foto con lui mi picchia ma perché non parla ho fatto comunque non c'è acqua visto che bravi visto sì bravissimi e poi vai chip l'abbiamo finita e vieni qua eh ma tu salto a posto visto che bravi c'è c'è visto che bravi acqua lo genera quindi andava fatto così ragazzi allora sono è rimasto oh mamma mia tu mamma mia signor vai in quello di ema in quello di ema ole di cione salta dentro 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 mannaggia a te mannaggia a te io sono io no vai ma rima maiala ma rima maiala e mo dov'è l'acqua signor o lei l'ha vista l'acqua aspetta drop signor chip dobbiamo cadere ah ho capito dove dobbiamo cadere signor chip chip non mi dì nei funghi no nelle mani dei tizi nelle mani ti giuro sempre nelle mani dei tizi eh bravo nel blocco bang no signor chip non ce l'ha fatta o meno signor chip è davvero una cacca signor chip dai signor chip è facile dai signor chip ce l'ha fatta bravo visto che bravo signor chip era semplice bravo il chip andiamo signor chip scenda non si diverta sta sempre lì a giocare l'ora con i funghi che cazzo di cazzo allora no raga mamma mia complimenti è che ne so non lo so chi è sta testa di cazzo vuoi vedere che l'ho chiamato iai you did it no i can't dance a gig ha detto balla il gig nel dubbio assorta mamma mia signor chip ma siamo bravissimi aspetta abbiamo finito quella verde quella blu quella quella blu quella viola chip rimangono soltanto la mia mappa e la sua mappa signor chip ok ok ha smesso di ragare ha smesso di ragare ha smesso di ragare quale facciamo prima quale facciamo prima aspetta un attimo fammi vedere una cosa allora facciamo 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 allora signor chip bravissimo falla che facevano l'amore con la figlia del dottore il dottore si ama l'ho ambarabacicico co la mia ah questa è già fatta è già fatta la tua la tua vai la mia vai oh perché lo si oh bella oh star wars star trek no star trek wars oh chip la mia mappa è fighissima signor chip mamma mia aspetta è facilissima però ah no non doveva mandare di là eh no no mi sa tanto di no eh io penso e infatti chip lo devi schivare poi ributtarti ci 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 ah si eh si signor chip ah ho visto l'acqua perché ho visto l'acqua ho visto l'acqua signor chip lo so che a lei piace vedere l'acqua comunque non l'ho chiamata efficiente si neanche io signor chip perché io mi fermo convinto che ci sbatto ma ma non è così signor chip lo spazio c'è sta signor chip io ce l'ho fatta l'ha fanculo come l'ha fanculo signor chip dai dai signor chip dai è facile signor chip dai credo è lei signor chip come è mortola dai la mia mappa è semplicissima signor chip c'è la cosa c'è di qua ah ma c'è l'invisibile no grandissimo chip vai signor chip andiamo andiamo ragazzi ragazzi no 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 come minimo vogliamo 10.000 mi piace perché abbiamo finito tutta aspetta no c'è la mia ricordi niente proprio ripensiamo qua sei mesi cazzo mia che bella mi sento dentro un alveare che cazzo è signor chip ma che cazzo di mamma mia mi sento nel mondo di yugio mamma mia mamma mia mi sento dentro il puzzle del millennio ce l'ho quasi fatta io no chip io mi sento dentro il puzzle del millennio lasci perdere ok io nell'acqua ci sono arrivato però ci sono arrivato davanti a te ci sono io vaffanculo mi chiamo pio ah davvero ti chiami pio ciao pio e dai signor chip la sua mappa è pagata signor chip eh sì d'accordo questo qua questo qua allora signor chip allora sinceramente seppure lei doveva fare il mondo di yugio me lo diceva prima che signor chip sono morto vicino all'acqua signor chip perché eppure io sono morto vicino all'acqua mannaggia a tutto quanto strike di gg vaffanculo andrà a porta oh ragazzi mille pollici in su in più di me che vuol perché quanti pollici in su hai tu scusi no no perché sono arrivato a 100 morti vabbè ah ok ma ci dico che cosa fai a arrivare a 100 morti ogni volta ma se è che ma come fai smettila non lo so non lo so madonna arriva sempre a 100 morti eh vabbè ok questo all'acqua è sbagliato non lo lasciate fare davanti a te ci sono io vaffanculo su arrivare oh ce l'hai fatta eh eh vabbè da quant'è che sei qua dai sentiamo da tre ore ebbè in effetti ce l'hai fatta cinque mie morti fa va bene ok va bene eh hai visto va bene aspetta no 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 aspetta no 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 voglio guardare sotto non c'è un cazzo perché ci sei già andato sì non c'è un cazzo madonna chip ma sei un ammerdino sì no chip ok no questa cosa qui non me l'aspettavo chip io ho esultato chip mannaggia tutto quanto sì va bene certo devi pigiare il pulsante in caduta chip devi pigiare il pulsante in caduta ah io tengo premuto sempre il tasto destro eh vai io lo pure lo sto pigiando tantissimo pigiando tantissimo ce l'hai fatta? certo non lo vedi? ok va bene chip ora capisco perché è difficile porca troia ma no porca di quella troia 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 ce l'hai premuto l'ho premuto l'ho premuto non è giusto scusami dobbiamo buttarci da qualche parte forse dobbiamo buttarci piano piano e piano piano come fai da piano piano? come faccio così eh sì ti pare facile? forse va fatto così cioè non penso proprio che vada premuto in eh no mi sa di sì invece invece sì mi sa beppo ah no non penso eh sì come fai dopo a premerlo? e se l'hai premuto scusami non è andato come fai dopo a premerlo? vuol dire come fai aspetta ce l'ho premuto lo premo lo premo lo premo non l'ho premuto ce l'ho premuto piano piano allora aspetta eh aspetta no se lì dice che ci deve buttare oh non mi conta le morti per fortuna c'è il chip è imputtibile oh chip oh l'ho peccato sì l'ho peccato sì sì cazzo sì grandissimo mamma mia mamma mia oh chip sì cazzo sì cazzo sì cazzo sì cazzo sì cazzo sì cazzo mi dice aspetta la luce cazzo si o chip sì oh che cazzo la lana l'ha fatta te eh certo è quello che è tronzo no io sono quello più bello ma la fangula allora siamo per mettere la lana si prepari scusa ma non doveva vinicio questo aspetta un attimo ah è vero devo mettere qua vai si coda aspetta aspetta adesso ci metto qua vada il cio chip vada attenzione guardate come baghiamo la mappa attenzione 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 il cio chip attenzione ma che mi ha bellissimo no si è colorato sì sono tutto colorato non vedi che è stato bello carino si sono colorati questi chip che colore erano questi che cazzo ne so io ti giuro davvero li ho visti cambiare colore non ero bravo a culo stai sempre viola o sono rincoglionito io ragazzi scrivetelo nei commenti se hanno cambiato no mi sono rincoglionito dopo mi vado a guardare il video perché mi sono rincoglionito io tantissima allora ragazzi cio chip guardi qua che bello dove stai qua ecco 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 è la scelta the dropper complete mamma mia bravissimi siamo stati no 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 chip c'è gg a noi ma ggissimi a noi c'è finire tutta la the dropper in un episodio signor chip c'è hai visto visto dove sei sto qua sto qua sono qui mi pia per il culo e vabbè dov'è dove sei sono qui pepo dove sei mi sta pia per il culo dov'è dai stavo vicino a te certo dove cazzo sei sono qui non è vero eh sì ormai sei andato distante la miseria quanto sei distante oh eh eh sì vabbè dove cazzo sei va all'altra parte mi raccomando che cazzo è ritorna indietro sto dove sta la rane e perché non ti vedo scusami non mi vedi perché mi sono preso per il culo ma dove sta le lane ragazzi mi giuro davvero non sono pazzo io a lui non lo vedo ti sei nascosto nella cesta no ma che è la cesta come faccio tra l'altro la cesta le giuro davvero non la vedo no ragazzi no 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 mi sta trollando guardi se qua dentro sei ma sto dove stare la ne pepo la ne la ne ah qua sei oro ti eri nascosto primo ti eri nascosto prima ti eri nascosto e non sono ti eri messo qua così ti eri messo qua così vero ti eri messo qua così no 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 ragazzi no vi giuro io non sono pazzo guardate da me non c'era mica ci ha scommesso messa la lampadina si spegne comunque dopo che ho trovato chip mi è accenduto come se manca no va bene ragazzi qua sotto nei commenti iscriveteci prossima cosa tranne no è bravo tranne ecco lo specific lo specific questa bravo signor chip niente boss no che niente per cui no il parkour quello lo vedrai questa no n o no n o sempre che sta facendo il tutorial dei deficienti questa no petti 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 lo scriva lo sta scrivendo petti petti quella no esatto quella no no n o io lo scrivo sul cellulare aspetta n o no ok grazie aspetti io ci fa sto punto lo faccio anch'io c'è me scusi adesso non è che copiamo guardando me no no al suo punto c'è no aspetta no aspetta no mi scusi no lo faccio pure io c'è mi scusi eh questa non mi scrive il dito signor chip questa no guardate questa no quel cazzo mi minimo cazzo mi minimo mi scusi mi scusi ma come cazzo mi fai alzano le scale comunque se il video non è piaciuto ci parlo il cazzo lasciate un po' di servizio nei commenti e noi ragazzi mi raccomando passate pure sulla pagina facebook che troverete il link in descrizione noi ragazzi ci picchiamo al prossimo video con pepe tutto ciao a tutti ragazzi ciao ragazzi ciao al prossimo ciao 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 capezzoli oh è esploso sotto è esploso sotto è esploso addosso massimo addio non me l'aspettavo è esploso sotto si si quando